Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di intensità, effort, cedimento, come imparare a spremersi di più in palestra. E' complicato, è complicato perché voi avete me da una parte che dico e sostengo l'importanza del cedimento nel bodybuilding e diamine se è importante raggiungere ogni serie all'estremo, portare ogni volta il corpo al limite in ogni singolo set che facciamo, quantomeno i set allenanti e realmente vi chiedete, perché me lo chiedo spesso anch'io, ce lo chiediamo un po' tutti, ho davvero raggiunto il limite? Come faccio a capire di aver raggiunto questo fantomatico limite? Come faccio a capire ed essere certo che non ne ho di più? Ed è difficile, è difficile perché il nostro cervello punta a farci sopravvivere e questa è una cosa grandiosa per fortuna però il problema è che uno dei meccanismi che interpone e che utilizza per farci sopravvivere è proprio quello di farci percepire tanto dolore e farci percepire dei limiti, delle barriere reali che realmente non esistono. Sapete tutti un po' la storia della madre che per salvare il figlio alza la macchina o alza il sasso, quindi la capacità che abbiamo di arrivare a dei gesti, delle forze, delle espressioni di forza sovrumani, questo è sicuramente vero e diciamo rapportato in piccolo, anche in palestra abbiamo la possibilità di sbloccare alcuni limiti quindi di spingersi davvero al limite, quindi ci ho detto come possiamo fare, come dobbiamo approcciarci alle nostre sessioni perché il consiglio base che io do sempre nelle storie di Instagram quando mi si chiedono queste cose, come imparare a spremersi che è allenatevi con qualcuno che sta a spremersi, quindi fare personal training, fare delle sessioni con qualcuno che vi insegni a spremervi quindi qualche atleta che è in grado di farlo e che ve lo sa trasmettere o al contempo quindi non atleti che semplicemente vi sdrumano in palestra facendovi cittare eccetera, atleti che sanno portarvi esattamente al limite e al contempo allenarvi insieme come spotter riuscire ad avere uno spotter, un partner di allenamento che sappia spremersi e questo è il metodo in assoluto migliore e più infallibile per imparare gradualmente a superare il vostro limite però ci ho detto, vediamo esattamente dei consigli che possiamo applicare se ci alleniamo da soli e non abbiamo queste possibilità o sono possibilità limitate che facciamo soltanto in alcuni periodi dell'anno allora il primo punto è la forma, la forma è importantissima perché quando parliamo del limite del cedimento nel bodybuilding parliamo di un limite a parità di forma, nel senso che nel momento in cui io spezzo la forma quindi cito, vado a avere uno schema motorio sbagliato, io sto già lavorando su uno schema motorio diverso quindi è come se mi spostassi su alcuni binari e quindi non raggiungo il limite dei miei binari sui quali devo stare quindi quando parliamo di cedimento limite la forma deve essere impeccabile questo è il motivo per cui tante tante persone non riescono a sostenere il cedimento è perché non arrivano realmente al cedimento tecnico, arrivano a percepire dolore e da là iniziano a sporcare il movimento a chiamare più muscoli in gioco, a disperdere molte più energie paradossalmente dando meno stimoli perché poi non raggiungono realmente il cedimento specifico sul distretto che stanno allenando quindi la prima cosa, la forma e il consiglio che vi posso dare di base è se non avete qualcuno che vi può guardare, quindi uno spotter, riprendetevi mettete una cavolo di camera, il cellulare, molto semplicemente, riprendetevi nei set più importanti poi li potete condividere, se vengono bene, se no in generale riprendetevi, guardate gli errori ed è un qualcosa che viene fatto in bene o male tutti gli sport quando si lavora singolarmente si rivede il gesto, lo schema motorio, si analizzano i punti specifici sono sceso un po' troppo poco nella pressa, cerco di scendere di più questo movimento non ho fatto bene, non ho disteso bene il gomito, bla bla e quindi in questo modo riuscite a mantenere una forma impeccabile sempre riguardo alla forma, consiglio numero 2, utilizzate un metronomo all'inizio del vostro meso ciclo, piazzate il metronomo, vi darà del tempo scegliete il tempo di esecuzione, sul tempo abbiamo dedicato tanti video abbiamo dedicato tanti video nella nostra academy su rhinonation.co.uk trovate qua sotto il link del nostro portale e là si parla del tempo, su come impostarlo, come scegliere quanti secondi di fase eccentrica massimo accorciamento, massimo allungamento, fase concentrica, bla bla quindi realmente piazzate un metronomo, un metronomo vi darà un ritmo permetterà di standardizzare le ripetizioni, ovviamente questo nelle prime fasi di un meso ciclo in questo modo siete sicuri che la forma è settata, è standardizzata, è esattamente quella ok da qua passiamo al terzo punto terzo punto che sta nello scegliere due compound soltanto per distretto muscolare e per sessione idealmente sul quale progredire quindi due compound, per questi due compound scegliete due serie allenanti fate un loading set, un back off o viceversa un primo set sulle altre ripetizioni, un secondo loading set dopo in base agli stimoli a cui dovete dare priorità e semplicemente concentratevi su quello quindi iniziate piano, non cercate di andare a portare al limite ogni cosa ma concentratevi inizialmente su due compound che andrete a standardizzare e monitorare, quindi per esempio in una sessione gambe iniziate con un leg car, fate un primo compound che è una variante di accosciata che può essere uno squat alla smith, uno squat con safety bar, un hack squat, un plendulum squat una seconda variante che può essere una variante di pressa e questi sono i vostri due compound, per entrambi scegliete una o due serie allenanti non di più, concentratevi innanzitutto su questo e su questi mettete il metronomo, standardizzate la forma, riprendete ogni singola serie quindi partiamo con calma ovviamente curate maniacalmente tutto il resto cercate di standardizzarlo eccetera eccetera però dedicate tanto tempo a questi due compound perché sennò state le ore in palestra almeno in una fase di startup, una fase iniziale ora da qua applicate il progressive overload e questo è il punto il modo più efficace per migliorare la vostra capacità di spremervi è il progressive overload cosa consiste il progressive overload? cercare di migliorare sempre e battere il vostro logbook così è il risultato, la vostra performance carico e ripetizioni quindi facciamo un esempio pratico e prendiamo l'esempio delle gambe faccio il mio leccarla ho fatto quel che ho fatto ho messo dopo un adductor machine sulla scelta degli esercizi c'è la nostra academy su Renonation quindi non entro troppo in gioco axe squat primo esercizio decido di puntare su un 8-10 RM come primo loading set e successivamente un back off sul 12-15 RM 8-10 RM faccio, metto 200 kg quindi faccio warm up e tutto il resto arrivo, faccio 200 kg e su questi 200 kg mi escono 9 ripetizioni perfetto sto all'interno del mio range ho messo il metronomo quindi ho standardizzato per esempio 3 secondi a scendere un secondo in buca e un secondo a salire quindi in totale sono 5 quarti 60 bpm quindi 60 battiti per minuto conto sostanzialmente i secondi e questa è ogni ripetizione ok back off magari sulle 12-15 avrò un altro carico perfetto mi segno ho fatto 9 ripetizioni con 200 kg ora il mio scopo per la prossima sessione la prossima volta che torno su questa sessione è quello di visto che ho fatto 9 ripetizioni in range 8-10 mantenere sempre 200 kg ma portare queste 9 ripetizioni a 10 quindi rosicchiare almeno una ripetizione in più battermi da qui il concetto di chasing the log quindi affrontare battere il mio logbook farlo però con una standardizzazione di ripetizioni quindi la forma vado sempre a monitorarmi che scendo il giusto e il metronomo quindi batto sempre il tempo le reps sono standardizzate non citto non baro e vado ed ecco che ho raggiunto le mie magari 10 ripetizioni poi la settimana ancora dopo ne sparo 11 sono uscito al mio rap range che è 8-10 sono arrivato a 11 a questo punto aumento un filo al carico da 200 passo a 205 quindi salgo leggermente ora lasciamo stare il valore del progressive overload da un punto di vista ipertrofico su questo ci possiamo dedicare anche altri video perché porta a ipertrofia diretta il fatto di diventare più forti ma porta anche il fatto che siamo più forti quindi questa forza andrà utilizzata quindi anche là la periodizzazione dell'allenamento è un qualcosa di fondamentale nel nostro programma ADE vedete come abbiamo periodizzato tutto quanto proprio per portare un guadagno di forza e poi avere diverse fasi per sfruttare al meglio questo guadagno di forza e massimizzare i risultati ipertrofici però adesso stiamo parlando del imparare a spremersi quindi utilizzare il progressive overload per imparare a spremersi qual è il discorso? che io magari essendomi appena approcciato a questo esercizio a questo modus operandi queste mie prime nove ripetizioni con 200 kg in realtà mi sono fermato prima non è il mio reale cedimento come è possibile che non è il cedimento? ho raggiunto il cedimento perché semplicemente non sono adattato non sono ancora preso di mistichezza sullo schema motorio quindi non ho tutto quel risparmio di energie e precisione motoria che normalmente si acquisisce quando uno schema motorio viene ripetuto più volte quindi anche coordinazione a livello neuromuscolare che permette di sperdere le mie energie eccetera eccetera e logicamente il mio cervello una volta che stende quel dolore specifico quel tipo di affaticamento su quello specifico schema motorio mi fa percepire che sono arrivato al cedimento quando realmente muscolarmente ce ne avrei ancora il fatto di dovermi battere è un incentivo a superarmi di volta in volta quindi se io parto col presupposto che devo fare almeno 10 ripetizioni la seconda volta la seconda settimana secondo un microciclo quel che è io già so che porterò il mio corpo oltre queste 9 quindi so che se 10 non ci sono io sono sicuro che non ci saranno perché io sono andato per le 10 puntavo a battere le 10 sono salito ho aggredito il carico ho fatto un video su come massimizzare la performance nelle sessioni ho aggredito il carico essendo conscio e convinto di raggiungere le 10 quindi se non tocco le 10 standardizzando col metronomo eccetera vuol dire che proprio non c'erano perché io andavo per le 10 molto spesso il problema del limite è proprio che non abbiamo un target preciso di ripetizioni che magari andiamo per le 15 ne avremmo 18 e una volta fatta la sedicesima boom fine ne ho fatte 15 però sapendo che la volta scorsa ne ho fatte 15 nel nostro esempio ne ho fatte 9 io già sono convinto di andare per le 9 devo rosicchiare la decima e in questo senso il progressivo overload è molto molto sensato per permettere di massimizzare quella che è la nostra capacità di spremerci perché ci porterà ogni volta a superare i nostri limiti ci porterà ogni volta ad andare oltre quindi in qualche modo diminuisce quelle che sono le barriere mentali psicologiche perché noi saremo molto più convinti di rosicchiare quel filo in più ogni volta e ci permette in questo senso di raggiungere a un certo punto un cedimento vero nel senso che a un certo punto non progrediremo più questo vuoi per l'overreaching vuoi perché a quel punto siamo sicuri che il cedimento è vero e concreto ora da qua un piccolo consiglio il metronomo mi raccomando utilizzatelo soltanto all'inizio perché? perché diventerà normale a un certo punto che quando inizierete a accumulare fatica le ripetizioni rallenteranno quindi magari la concentrica che normalmente è standardizzata ad un secondo per il metronomo vi salirà in un secondo e mezzo in due secondi e quindi andate a sfasarvi rispetto ai battiti in questo caso potete o mantenere sempre il metronomo per darvi un ritmo però lo mettete su un primo quindi sostanzialmente vi batte i secondi e voi ok ci metto di più a salire prendo un respiro riscendo però c'ho i secondi che mi fanno sapere che scendo sempre in tre secondi e tengo sempre un secondo di fermo in basso che è un'ottima soluzione però di base non siate troppo ancorati al metronomo di nuovo è un metodo per standardizzare le ripetizioni in una fase iniziale successivamente cercate sempre di mantenere un certo tempo cercate sempre di darvi un certo tempo però non siate troppo maniacali perché di nuovo le ripetizioni in concentriche inizieranno a diventare sempre più lente dovete prendervi uno o due respiri in alto perché non potete pensare di progredire per settimane con le ripetizioni sempre identiche a livello vi parlo di tempo a un certo punto dovrete prendervi quel break in alto per strappare una effective reps in più e va benissimo che sia così o addirittura 5 secondi 10 secondi eccetera però questo è tutto un altro discorso sul come gestire la progressione il discorso è a un certo punto il metronomo abbandonatelo quindi non siate troppo fiscali in questo non voglio vedere 70.000 persone che stanno col metronomo sempre costantemente in sala ora ultimo discorso che riguarda i neofiti per i neofiti un'altra soluzione sempre in chasing the log però rispetto al loading set e back off che è un metodo che è un metodo tendenzialmente a basso volume basso tonnellaggio quindi si presta bene ai intermedi avanzati che iniziano ad avere carichi importanti per i neofiti un ottimo metodo un ottimo sistema è quello del ramping il ramping vuol dire per esempio un ramping sulle 8 un ramping sulle 10 vuol dire che io ramp up quindi io scalo il peso lavorando sulle 8 ossia 8 ripetizioni con non lo so 50 kg 8 ripetizioni con 60 8 ripetizioni con 70 8 ripetizioni con 80 e continuo a salire di piastra in piastra con un certo gap di carico che andate voi a vedere un attimo quale sia in base al carico finale salgo 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 finché a un certo punto non arriverò a un carico in cui le 10 le 8 ripetizioni quelle che sto facendo non mi escono più quindi arrivo al cedimento normalmente per farvi un esempio io sulla pressa utilizzo spesso il ramping che è uno schema che tende a culminare molta fatica questo mi permette di caricare anche un po' meno a parità di stimolo alla fine accumulare un po' più di tonnellaggio quindi lavoro un po' più in sicurezza e metto un disco per parte ogni volta quindi metto un disco per parte 10 ripetizioni un disco per parte 10 ripetizioni un disco per parte 10 ripetizioni quindi 1, 2, 3, 4 arrivo sui 13 dischi per parte quindi ho fatto 13 serie di ramping quindi vedete c'è tanto lavoro in questo e a quel punto normalmente raggiungo il cedimento e il mio scopo ogni volta è quello di ok per esempio con 12 dischi per parte ne ho fatte 10 13 dischi me ne sono uscite 8 ok la prossima volta punto a farne 10 con 13 dischi se ci riesco la volta dopo metto 13 dischi e magari aggiungo 5 e 5 e punto a farne 10 anche così e quindi salgo gradualmente faccio questo miglioramento che è sempre un chase in the log sostanzialmente punto a migliorarmi ogni volta però sapendo che la volta scorsa con i 13 dischi me ne sono uscite 9 per dire adesso devo farne 10 perché devo riuscire a chiudere e a questo punto posso sbloccare i 13 dischi più 5 kg eccetera eccetera quindi sì queste sono delle idee molto semplici in realtà ragazzi per migliorare sull'effort mi raccomando il discorso base è la forma mantenete una buona forma perché se iniziate a cittare se sporcate lo schermo d'olio è come se stesse facendo poi di un punto in bianco un altro esercizio quindi avete fatto 5 ripetizioni pulite su queste 5 avete tenuto un buffer magari 10 20 quello che vi pare sull'esercizio che state facendo avete cambiato esercizio di punto in bianco quindi cittare sporcare lo schema motorio vuol dire non raggiungerlo proprio il cedimento raggiungere un cedimento sistemico su un altro schema che non è assolutamente quello che ci interessa quindi molto precisi molto controllati provate questo progressive overload e provate questo discorso qua del ramping nel caso in cui siate neofiti intermedi e i carichi siano ancora bassi con questo è tutto ragazzi qualsiasi domanda qua sotto come sempre sarò ben liato di rispondere e noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti